Abbiamo fallito tutte le volte che siamo stati conniventi con il potere, falliamo tutte le volte che non raccontiamo e falliamo anche tutte le volte che non siamo capaci di raccontare, quindi non siamo capaci di informare. Tante volte magari abbiamo anche le informazioni che vogliamo dare, ma non riusciamo a catturare il lettore. C'è sicuramente un problema di semplificazione, ma all'interno di quella semplificazione noi dobbiamo essere in grado di dare tutte le informazioni, è questo che ci viene chiesto e troppe volte non lo facciamo. Noi abbiamo bisogno di essere liberi di fare domande, di ricercare la verità, di scrivere, e di raccontarlo scrivendo, facendo televisione, di dare voce ai cittadini, perché questo è il nostro mestiere.